ciao amicorni bentornati in questo nuovo video scusate per la mia voce ma mi sono svegliata da pochissimo e io avevo fatto cioè avevo fatto un video per alessia last 1 ma dopo l'ho eliminato perché ci ho riflettuto e di sicuro non sarà per gli iscritti magari proprio il suo telefono comunque già legna 42 mi cambia anche quello che sto dicendo ora è la verità perché una mia fan che io sono anche su iscritta ha molto molto più difficoltà di tutti noi ha 13 iscritti ragazzi per favore ragazzi fatela crescere per favore sarà un'immensa gioia che tutti i miei iscritti si iscrivono a quel canale perché mi vogliono bene sotto nei commenti per favore iscrivetevi emily lol sister se non la trovate se non la trovate riprendete la live mia e la troverete che ha scritto ma sei pazza tu non ti fai vedere perché da tanto che non vede i miei video perché ho avuto problemi col telefono e ora scoperto che mi faccio vedere in faccia è una mia fan sì non è che mi ammira tanto solo che il suo telefono ha molti molti problemi e quindi mica non scrive tanto oppure segui tanto i miei video a causa del suo cellulare che non va perché lei guarderebbe i miei video ogni giorno e la conosco io guardo i suoi video oh mio dio bellissimi certe volte mi scordo di commentare cioè tipo quasi sempre mi scordo di commentare per vedere i suoi video cioè io sono così non commento ma guardo certe volte per favore ragazzi iscrivetevi mi farete un immenso piacere non iscrivete sotto nei commenti io sono iscritta a te di sicuro di quel di là ma noi siamo i tuoi iscritti vogliamo solo a te ma quella la che sto dicendo io è mia cugina ecco l'ho detto è mia cugina emily lol sister è mia cugina al sangue del mio sangue siamo cugine ecco mi farete un immenso piacere se vi iscriverete al suo canale è molto molto bello fa vedere dei giochi storie di bambole fa vedere tipo cose della scuola perché è il suo ultimo video e vi faccio vedere il mio stuccio nuovo lei fa molte storie con le bambole le fa molto molto divertenti ma a me non mi piacciono le bambole però a guardare i suoi video mi fanno divertire ha la mia stessa età perciò anche lei 9 anni e per favore ragazzi mi farete un immenso piacere se vi iscriverete tutti al suo canale è arrivata non mi ricordo forse a 13 o 14 iscritti per favore iscrivetevi mi farete un immenso piacere sia a me sia a lei io sto facendo questo video in nero perché mi sono appena svegliata e non mi voglio ok avete capito comunque per favore iscrivetevi se siete veramente miei fan se non mi iscriverete non so come ci rimango perché quella là non è una fan normale ma è mia cugina è mia cugina ragazzi è mia cugina lei ricambia appena vede chi è stato lì iscritto se vuole se vuole io lo dico anch'io lei si iscriverà cioè tipo immediatamente magari avrà il telefono scarico qualche problemi col telefono se arriverà in ritardo perché lei fiume certo dice sempre certo è tutta felice e si iscrive al vostro canale per favore ragazzi non lo chiedo per favore questa qua non è una chissà quanto che ha 42 iscritti o tipo 100 o tipo 80 non ne ha così ne ha pochi ne ha 13 non vi sembra un po' piatusa a me mi sembra piatusa perché fa video tutti per noi ma alla fine la guardano solamente 14 non è il senso che vi dovete elevare da quel canale se siete iscritti perché le fate già un immenso piacere ma vorrei che la seguissero più persone lei tipo sfarebbe come ha fatto io tipo per favore ragazzi quante volte sto dicendo per favore io sono una persona che vuole bene le proprie cugine come flow show e 4 show o flow show e emily lol sisters maristail kawaii non mi ricordo un'altra mia cugina forse si chiamava mariterosei boh hashtag mariterosei una cosa così e queste sono le mie cugine che hanno un canale si sono le mie cugine che hanno un canale e io oggi volevo dare aiuto a una delle mie cugine che è quella che ha più pochi iscritti di tutti di tutte le mie cugine cioè i miei lol sisters per favore ragazzi iscrivetevi al mio canale e al suo canale soprattutto al suo canale un bacione e ci vediamo al prossimo video vi ricordo che non c'è cioè non so se metterò la intro o no non lo so se l'avrete vista google ne so comunque al prossimo video